Non possiamo pensare di ricostruzione, in questo caso stiamo parlando di messa in sicurezza e di possibilità di poter restringere la zona rossa, quindi di poter far rientrare chi ha la possibilità, la casa è agibile, di poter ritornare a casa, chi è inagibile di poter meglio pianificare quelle che possono essere le prospettive di ricostruzione perché è logico per quello che poi ne è venuto fuori in questi due anni, non ultima la legge 156 c'è necessità di poter, di dover andare a pensare una pianificazione, di capire quali possono essere le migliori soluzioni. Siamo contenti però perché a due anni e passa di distanza abbiamo la possibilità di poter restringere la zona rossa e di poter meglio poi tenere sotto controllo questa zona che oggi sembra una fotografia di quello che è fermata nel tempo, di quello che ne è venuta fuori dopo il 21 di agosto del 2017. Quindi fare questo passaggio è importante anche per la gente che ci stava veramente spronando per fare queste cose. Certo non è stata la nostra volontà di venire qua dopo due anni, la nostra volontà forse era quella di venirci subito dopo, però ci sono stati ecco i sequestri non ultimo quelle della chiesa dell'addolorata e altre serie problematiche diciamo che hanno portato tra virgolette a questi ritardi. Non li voglio giustificare, non voglio giustificare questo ritardo ma voglio spiegare che effettivamente una motivazione alla base ci sta. Ecco per dare dei punti di riferimento qui è dove ci fu una delle due vittime, poco più avanti c'è l'abitazione dalla quale furono tirati fuori i bambini e un'intera famiglia ma anche lì ci fu un'altra vittima. Sindaco nel dettaglio in che cosa consisteranno i lavori, come saranno anche organizzati? Perché poi la gente del posto vive questa zona e vorrebbe continuare a viverla, molti hanno le campagne soprattutto. Sì va bene, certamente noi abbiamo permesso con la massima attenzione la possibilità a tanti cittadini che avevano appunto i terreni, anche molti curavano animali tipo ecco pollai e altro di poter accedere nella massima diciamo attenzione di quelle che poteva essere il pericolo, i pericoli che ci stanno. C'è possibilità di potersi organizzare perché adesso si deve diciamo unire quelle che sono le esigenze della ditta che deve eseguire i lavori con quelle che sono le esigenze di queste persone. L'intento finale poi è quello di aprire questa strada, quindi questa strada in effetti ritornerà nell'utilizzo diciamo delle persone e quindi l'illuminazione pubblica, l'acqua e quindi questa cosa porterà molta gioia per tante persone che oggi pure gli stessi contadini sono in possibilità di avere, a tenere l'acqua lì dove prima invece tenevano la riserva d'acqua, tenevano la possibilità dell'acqua corrente, oggi invece purtroppo da due anni a questa parte ne sono impossibilitati per forza maggiore, però alla fine di questi lavori effettivamente un po' di storia continuerà di nuovo a scorrere, vista e considerata che io mezz'ora, venti minuti dopo il fatto del 21 agosto corsi qua, insomma mi fermai proprio all'angoletto lì vicino a quel pilastrino e la storia si è fermata.